Le lezioni hanno uno sviluppo narrativo anche dal punto di vista tecnico. Si incomincia con che cos'è un'idea, come scegliere un'idea, come sviluppare un'idea per un reportage. E questo è fondamentale, questa parte teorica, perché mette le basi giuste di come poi affrontare tutto il problema della produzione e del marketing. Comunque deve essere sviluppato in un contesto di mercato. Dopo l'idea si incomincia ad affrontare come impostare la sua produzione. Allora qui ci sono i vari aspetti che è la preproduzione, la produzione e la postproduzione. Questi tre settori, ambiti che in genere necessitano di figure professionali distinte, il candidato deve riuscire a percepirne l'importanza e poi riuscire tecnicamente a imparare un po' come si fa la preproduzione, come si fanno le riprese, come si fa il montaggio. Naturalmente queste mie lezioni sono dei concentrati, nel senso che non possiamo fare un corso di sei mesi, otto mesi, perché normalmente l'apprendimento della tecnica del montaggio, l'apprendimento della tecnica della ripresa, implicano delle vere e proprie scuole. Oltre alle lezioni teoriche e pratiche che si riferiscono al video e all'audio, ci saranno anche un paio di lezioni per approfondire due aspetti fondamentali. Uno, tutto quello che riguarda i diritti dell'immagine e di diffusione. Cioè un web reporter deve sapere che quando fa delle riprese e coinvolge terzi, deve chiedere dei permessi, deve far firmare delle liberatorie. Cioè tutto questo aspetto giuridico che ormai è molto molto importante e non se ne può fare a meno. Una lezione importante sarà come poi rendere questo reportage di cui noi abbiamo realizzato il master, renderlo fruibile nella rete. E qui subentra tutto il, diciamo, il complesso mondo della trascodificazione. Dunque la lezione si concentrerà sulle modalità di trascodificare questo file in vari standard per permettere poi di essere diffuso su tutte le piattaforme ed essere usufruito su tutti i computer, anche sui tablet e sugli iPhone, eccetera. Un'altra lezione importante è riguardo la sua commercializzazione. Cioè noi abbiamo un reportage che abbiamo realizzato, a volte lo si realizza per terzi, dunque il reportage va destinato a un cliente. Invece a volte sono dei web reportage che voi stessi create, avete l'idea, dopo la dovete proporre a dei clienti. Allora c'è tutto il discorso di marketing, cioè come voi vi presentate a dei potenziali clienti per vendere il vostro reportage, per farvi conoscere. E questa è un'altra lezione molto importante perché, come sapete, quando si produce si spendono soldi, però poi i soldi devono rientrare e dunque i vostri prodotti devono essere venduti. Quindi sostanzialmente in questo arco di lezione, in questo arco di tempo anche, il candidato potrà imparare dall'idea fino allo sfruttamento del suo web reporter quegli elementi utili a che la sua attività possa essere non solo formativa, ma anche redditizia.